Beh, PUBG è molto più grande di questo 64 km di quadrare La mappa più piccola è semplice Queste sono note E ci sono pure 50 persone in prima Avete gas in avvicinamento Andate nella zona sicura Sennò infatti dovrebbero invanderle un pochettino Io ragazzi opterei per Andiamo qua Sì dai, ci sono un po' di contratti sparsi Ci sarà nato un po' di persone sparse Eh, questa è la mappa Dove cazzo andiamo? No, no, dico in città Sicuramente Eppure anche il po' è bello Però vai troppo Guarda, guarda, guarda Ci devo messere Guarda, di qua Guarda, scorte pronte a fin recupero Chi è che ha preso l'altà sinistro? Io Devo prendere la bandiera, Steve, wonder No, la bandiera quando c'è l'utteranno La cassa sta a pericare Questa è la banca La banca è veramente deciso Un sacco di soldi Obiettivi aggiornati Passare alla prossima area Con tutte le armi Famous Vabbè Ma guarda Dove me l'ha messa sta cassa In grattacielo Ci metto tre ore a prendere E' che ricordiamoci Che c'era uno stronzo Quando i pressi Mi raccomando No, 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 no Attenzione Un crim nemico Vi sta dando la caccia Ma vai a fare in culo Ma vai a fare in culo Ma vai a fare in culo Va che t'ho sparato Il cazzo di caricatore Ma vai a fare in culo Ora sei nel volag Lotta per tornare in azione Inci questo scontro E torni in prima linea Perdi E' vero E' finita E' ora Spezzalo Eh, ci dobbiamo accogliare Li vedo Li vedo Mario riesci a prendere quella caccia Quando sei già in classe Lo sai come neanche Sì E poi sali subito qua Perché ci stanno dando la caccia E se entrano qua Dove cazzo sto Sto pure? Ora il compagno è nel gulac Sto pure? Fuori 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 Compagno a terra Tornerà alla base Sti d'occhio perché sono sotto di noi Eh, lo so Infatti tu dovresti guardare le scale Io invece guardo Stai guardando le scale No, Randa devi scendere qua Dove sono io Guardare le scale da qua Obiettivo principale raggiunto Tutte le scale da qua Io guardo la scensura Randa ma si sono allontanati Vedrano Sì si sono allontanati Eh vedrano Inersi giallo Ah, Cristo Dio Non è una comunizione Facciamo Trattotaglio lo sconsiglio Adesso Io direi di Dei fare un altro contratto Ho trovato questa Beh, io devo prendere per lui No Appunto, dai vedi Faccio prendere la metà scena Non so se avete capito Ma non sconfito io Possiamo anche prendere l'equipaggio a me Sì Non è neanche Cassa in arrivo Cassa di scorte individuata Va recuperata Beh, ci facciamo sto contratto E ci guadiamo le casse Poi dobbiamo anche rianimare Potresti rianimarlo tu però Sì Da dove mi pinghi un punto Prossimo obiettivo localizzato No, però non fare così che mi spain Una protezione Mediocalibro qui Adesso 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 Ma ci vediamo là La dove? Alla stazione Per rianimare Calmi Sì Forse Minchia Guarda dove sta C'è gente C'è gente C'è gente Non ci vado Eh lo so Ci vado Ci vado Ci vado Ci vado No no Le arse Che non amassano Tutto per prendere un contratto No Reveno a rischio Io ho tornato a lavoro No che rischio fa Ma dico per restare Qua c'è gente Potrebbe avere Ah Occasione stanno andando Ah beh adesso Gli lasciamo entrare Tra cazzo Perché amaziano Perfetto se ne sono andato Cali io ti lancio anche l'equipaggiamento Un lancio d'equipaggiamento Uabinemico in volo Finghia quanta roba Riuscite a comprarmi E un paio di ancorazze Perfavoro Sì No te le troppo Tieni Uh Chia che spara Perché spari No Devo capire Che cazzo Che arma era Andiamo a completare il Il contratto E va Andiamo insieme a prendere qua la tassa Eh una cosa Io non ho Munti Mi muovo Minchia però Cioè all'ospedale Dall'ospedale È poco ma sicuro Che ci sono Qualcuno Ci sia qualcuno Sì sì Prima si stavano Faitando All'ospedale Dovrebbe essere Uno spazio Però magari se andiamo In quattro Eh rega io C'ho Trenta Di cosa Eccole qua Eccole qua Se avete colpi da lanciarazzi Dopodatemi Io ne ho Ce ne ho cinque Ok allora li prendo da mare Prendo da mare Dove va Eccole qua Oh lì su lì su lì su Sto avvizzato Eh È bianco È bianco Una terra Ok a terra Pune l'altro Lanzo d'equipaggiamento Alleato In arrivo Mi sono Rianimati Non ci sono Ok tutti morti Attenti che c'è un cecchino Che stava mirando l'oro No cazzo dì Dio Ma dà Ma d'uze Tu Qualche Ti dici 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 Da ma che porco Dio C'avevo un trauta Di animazione Ma dà Arriva un attacco al grappolo Copritevi Mi sai dire più o meno Dov'era? Qua Era qua dal container Sto pezzo di merda E uno è qua invece Eccolo là Vado Vado Di qua Vado là Ignorate Steve su ne hai due Sì lo so lo so lo so A terra Lo mandate a terra Quello che è sopra Hai silenzito L'ha rezzato No Non ho capito Dove è Niente Sono campurati qua Non C'è la scala Interiore Steve C'è la scala E volendo Ma a meno che Non vai nell'altra La sto cercando Uccidi Gli è faticato Gli è faticato Gli è uccisi tutti Io prenderei Il Bene Se qualcuno Può rianimarmi Eccolo qua Ce n'è un altro Ce n'è un altro Dove sono io Lo vedo L'ho atterrato L'ho atterrato Uno che mi rianima Uno che mi rianima Per favore Morto Uno morto Eh ragazzi Mi devo perdere Che sto nella merda Non capisco Dove è Sto a piedi Tutta Ho bisogno di corazze Spero di Ma che Sei buttato giù E caduto Mario 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 Vai un attimo Dalle shop Se poi Rianimami Nel vento E comprati anche Subito le corazze Calle vengo da te Vedi tanto Qua c'è pieno di armi Io camano pure Sparato Ce l'hanno con me Ce l'hanno con me Ogni volta Che metti una corazza Oh Uno Pisto Gioi un atto Visto Visto Cazzo Bavano accesso Entra qua dentro Mario Io ho buttato il bombardamento Rega ne avete uno a destra Volpi fuori bersaglio Vai Telefonazze Calle Buttati Buttati Rega da dietro Da dietro Ragazzi Mi posso dire che cosa Che cosa penso ragazzi Non lo posso dire Senza che mi prendete Il culo Io penso che questo Sta citando Perché Perché mi becca Mi becca sempre Appena mi spotta Mi becca Ti è troppo preciso È troppo preciso A me Sera una delle corazze Steve Ma devi sempre tu guidare Oh L'ho mandata a terra Sto figlio di puttana Sì Rega Li potete pingare Che io non ne sto vedendo Neanche Qua 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 Dopo mi metterò Ok Eccolo là Ragazzi Gli atti Mi sento Mi sento Mi sento Dai Dai Ma c'è una cassa No Non c'è Non l'avevo mandata a terra Si continuano a rianimare Sti figli di puttana Porco dio Uno è scappato Verso di là Uno è scappato Verso di là Sì sì l'ho visto L'errore mio È quello che ho Mandato in ferimento Che poi è arrivato L'anchetto L'arrestato Sì ma non è giusto Comunque Questa cosa 12.000 Ressurrezioni Cioè 12.000 Raga Io devo prendere Il cecchino Andiamo un attimo Andiamo Sto cazzo Di pochino Poi io Non so Visco Che poi Ressuscitare Ma devono Non asserlo Se la toccare Un paio Guarda Prendo Un bombardamento Secondo me È meglio Il bombardamento Così almeno Ci terremo Qualcuno Dei Lanci In faccia Io perciò L'ho chiesto Così Sul palazzo C'è uno Sull'ospedale Callerini Indietro Ti ho fatto Un pochino Di fuoco Di soppressione Ci sarà gente Qui da queste parti Sicuro Ne avevo buttati a terra due Quei due erano fatti A meno che non crepano Ma ho i miei Serissimi dubbi Dove stanno sopra? Stavano là Ma no Molto probabilmente Li avranno arrestati Gli Glielo lanciano Ah no Sono di tre Guarda Non è là Sono ancora lì Ma Allora ragazzi C'è gente là Io vado di là Non riesco a pingà Che fanculo Ecco Vedete No Vi sono movimenti Sì C'è attività nemica Io prima ne ho buttato Uno a terra Ma era Eccolo L'avete visto Questo che appena sta sciogliendo Dove a terra Non c'ho bisogno Sono andati là Dalle loro armi È dentro quel fungone È dentro quel fungone Annullare Due a terra Compartamento di precisione alleato Attenzione Sono arrivati No No C'è un altro camper a sinistra A destra Compagnolo di rinnovatura Sto entrando Sto entrando C'è una maschera C'è una maschera anticazza ragazzi C'è roba che possa Lui Tutta la corazza A uno Ucciso Uno dietro lì Ok morto Team ha nientato Raga hanno rianimato uno Hanno rianimato uno Dal coso Lo vedo Cerco di prenderli I soldi Così posso rianimare Tossiscono da queste parti Dove sono io Un altro a terra Morto Nemici qui Nemici qui Tu Vuosi nemico in volo Vuosi nemico in volo Avete già rianimato Ah sì Non è un lancio di equipaggiamento in arriva No ma io sono vivo Sono già tornato da solo Ok Che cazzo di gioco sto giocando Lui Vuosi nemico in volo Rega mi date mille Che mi prendo le corazze Con fuori Che sono appena tornato Era morto Eccomi qua Eccomi qua Tieni Dove sei dove sei dove sei Dove sei Amici qui Ok Vivo Grazie Oh c'è gente c'è gente Di là Mi saranno altri cento Mario Altri cento Grazie Uno ve l'ho atterrato raga Uno ve l'ho atterrato Morto Raga mi stavano sparando anche da altre parti E occhi mi stavano sparando anche da altre parti Ragazzi ci troviamo pure da qua Raga Sì 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 no Andiamo verso la testa Andiamo verso la testa Sì 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 perché Ma l'hai morto? No no Vi ho dato supporto dal tetto io Ah ok Oh nemico nemico là La dove? La dove? Figlialo Ok Sparato un colpo Corazza Anch'io le guardo le spalle ragazzi Non lo vedo più Va bene andiamo verso di lui Andiamo verso di lui Adoriamo Comunque avete l'ho agito No io no Purtroppo no Ho 5000 Sparano Si sparano dall'espedale Guarda l'espedale Guarda l'espedale Guarda l'espedale Porco dio Gliela fanno spiegare a quelli dell'espedale Gente Facciamo il giro largo Coltivo avvigiato Gliela fai Mi guarda l'espedale Ok Inoltre Non riuscire Storpevo Grazie Non mi ha avvicinato Mi ha uccidato Non mi ha uccidato Non mi ha uccidato Però Che la fanno chiedere sull'espedale Ma vaffanculo! Ma vaffanculo! Ma vaffanculo! Merda! Entra entro! E restano solo 25! Mamma mia quanti proiettili che mi sono volati intorno! Mamma mia! Mamma mia! Cecchini di tutto mi stava volando addosso! Cazzo! Raga c'è uno che è lì? Cazzo e l'ho buttato tipo qua! Uno è morto! Sono dentro qua la tenda ragazzi! Vedi? 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 Iloc. Quattro a terra! A terra! Uno morto! Uno morto! Una terra! ucciso ok morto di caccia che rega il cacchino porto giuda merda 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 uno che riesce a venire a rianimarmi uno che mi rianima per favore non riesco a buttarmi giù vieni su se riesci vieni su non riesco a buttarmi giù io dai 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 non riesco a buttarmi cazzo dai cali ce la fai dai cali ce la fai ce la prepara dai 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 rimaniamo un attimo qua sopra ma con che cosa c'ha ucciso no dai uno che ci fa tutti a quattro non è possibile ho scelto lo scontro buono madre 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 minchia ho fatto un lotto di fila che cosa hai messo io lo vediamo lo vediamo io stiamo in arena dove qualche mantea è stata ottimo randa 5 buongiorno bello invisibile bello infatti devo fare una pausa bella 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 si una cosa baglia me la faccio anche io brava malattina meno male che ho salvato meno male che t'ho restato randa eh si cal eh si mamma mia meno male meno male che t'ho restato all'ultimo che ho detto vaffanculo vado su lo resto vaffanculo piuttosto muoio ma lo devo restare Grazie.